Ben trovati in aggiornamento con il TGD3B, giornata pazzesca, quella di giovedì folle dal punto di vista meteo al centro nord Italia, battuti numerosi record mensili per il mese di giugno, addirittura record storici abbattuti su tutta l'area alpina. Possiamo notare dal satellite, saliamo a 36.000 km di altezza, come quest'anticiclone africano ancora padroneggia, ministra con tranquillità la situazione meteo sul centro ovest Europa, perturbazioni bloccate ancora a largo del Portogallo, non riescono a sconfiggere questo muro anticiclonico, succederà quindi poco nei prossimi giorni. Weekend di tempo stabile, buono, qualche temporale di calore isolato in montagna, andiamo a vedere le temperature perché indietreggia un po' questo caldo africano, delle correnti da est favoriranno un lieve calo, insomma non saranno più valori eccezionali di caldo fortissimo in pianura padana e sulle centrali tirreniche, oscilleremo domenica tra i 31 e i 36 gradi. Al sud lieve aumento termico, andiamo a vedere la prossima grafica perché l'avvio di settimana sarà intenso, con il caldo intenso questa volta al sud. Cambia qualcosina al nord perché le correnti atlantiche inizieranno a bussare alla porta dell'Europa centrale, qualche temporale dall'area alpina potrebbe avvicinarsi alle pianure e quindi smorzare un po' la grande canicola. Ne riparleremo, trovate gli approfondimenti sul sito di Trevi Meteo.